Buon Natale anche a chi Natale non fa. Prendendo spunto da un verso della nota canzone di Enzo Iacchetti, il Comitato WISP di Genova chiuderà con questo messaggio importante, la tradizionale rassegna giovanile Illumina il Natale. Un messaggio che saranno le centinaia di giovani tesserati delle scuole di danza a lanciare dal palcoscenico del Teatro Gustavo Modena di Genova domenica 11 dicembre in occasione della dodicesima edizione della manifestazione che ogni anno apre il calendario ufficiale della danza WISP. Non un concorso ma una vera e propria festa e questo lo spirito che anima da sempre Illumina il Natale con il Sipario che nel 2016 si aprirà alle 16.30 dando il via ad uno spettacolo di 20 coreografie. Dal classico al moderno passando per l'hip hop ed il contemporaneo fino ad arrivare alla danza russa, tanti generi ad alternarsi sul palcoscenico dove protagonisti saranno i danzatori e le danzatrici delle associazioni WISP, che partecipano sempre numerose a tutte le manifestazioni del calendario. Nessuna classifica ma soltanto l'applauso della platea ad accompagnare le performance dei ballerini chiamati nel finale tutti insieme sul palco per la sempre attesa e festosa coreografia conclusiva. Sulle note della canzone natalizia di Enzo Iacchetti si chiuderà così l'edizione 2016 che farà partire ufficialmente il conto alla rovescia per il grande appuntamento di aprile con il concorso variazioni. Ad ospitarlo sabato 8 e domenica 9 aprile sarà il 105 Stadium di Genova e potrà contare ancora una volta su un corpo giuria di fama internazionale composto da Maurizio Tamellini per il genere classico, Macia del Prete per il contemporaneo, Bill Goldson per il moderno e Fabrizio Santi per l'hip hop. Tutti i dettagli sul sito del Comitato di Genova www.wisp.it slash Genova